acciaglieri d'italia l'amministratore delegato morselli nel 2023 4 milioni di tonnellate prodotte avvio del revamping di afo 5 bernabè situazione complessa insostenibile la spesa per l'energia ripreso il confronto diretto tra azienda e sindacati entro febbraio la firma dell'accordo di programma per il rilancio di acciai speciali termi l'hanno annunciato regione umbria comune di terni la stessa direzione aziendale prezzi siderweb ancora in alto i prodotti piani frenano i lunghi pochi movimenti per il rottame la rilevazione di siderweb sul mercato nazionale buongiorno ben ritrovati all'appuntamento dedicato al siderweb tg è tornata dunque alta l'attenzione sull'ex ilva con i lavori della commissione industria del senato che sta esaminando il decreto sugli impianti di interesse strategico e dal ministero dell'economia è anche arrivato l'atteso ok al trasferimento a invitalia della dotazione finanziaria di 680 milioni di euro facciamo il punto con il primo servizio di oggi se l'arretrato non verrà saldato a snam le forniture si interromperanno e l'attività produttiva dello stabilimento di taranto verrà irrimediabilmente compromessa acciaieria d'italia e tra due fuochi da un lato ci sono le fatture arretrate a indotto i fornitori deve anche 300 milioni di euro a eni e almeno 280 milioni di euro a snam dall'altro gli investimenti nuove tecnologie e ambientalizzazione nel mezzo l'attività ordinaria il problema è la senza di liquidità dopo mesi in cui il gruppo ha proseguito le proprie attività solo con il flusso di cassa nei giorni scorsi il ministero dell'economia e delle finanze ha predisposto l'erogazione della dotazione finanziaria di 680 milioni di euro a invitalia perché possa trasferirli ad acciaierie d'italia senza indugi il problema è che fino adesso la società si è finanziata col giro di cassa autonoma cosa che per una società di queste dimensioni è quasi impossibile la situazione di acciaierie d'italia è infinitamente più complessa di quella che io ho vissuto in qualsiasi altra esperienza la chimica il minero metallurgico nonostante tutto ha ricordato bernabè nella sua audizione informale in commissione industria al senato che sta esaminando il decreto impianti di interesse strategico nazionale l'attuazione del piano ambientale è proseguita come dai piani vedendo investimenti per 800 milioni di euro entro giugno poi ha detto ancora sarà assunta la decisione finale di investimento per il progetto di di erai d'italia di erai d'italia completato la fase di progettazione assumerà la decisione finale di investimento nel giugno di quest'anno in quel momento sarà necessario l'avvio contestuale da parte di acciaierie d'italia del processo che porterà alla realizzazione del primo forno elettrico per consentire una valutazione dell'intero processo da parte che parte dalle energie verdi attraverso il di erai arriva la produzione di acciaio verde nel sito di taranto verrà realizzato un impianto su scala ridotta che consentirà di valutare condizioni di esercizio di tutte le componenti del processo si tratta il processo idra che beneficia di un finanziamento ipcei e di cui è previsto l'avvio in tempi brevi quest'anno ha detto poi l'amministratore delegato di acciaierie d'italia lucia morselli incontrando i sindacati nella sede di confindustria saranno prodotti 4 milioni di tonnellate più 15 per cento rispetto all'anno scorso il revamping dell'alto forno 5 dovrebbe cominciare nel secondo semestre con ripartenza a 2025 inoltrato molti insomma gli aggiornamenti nella settimana che anche visto qui quindi la ripresa del confronto nelle relazioni dirette tra azienda e sindacati improntate al dialogo un piano sull'incremento dei numeri della cassa integrazione in acciaieria italia è stato annunciato ai direttori di area del siderurgico di taranto lo hanno spiegato fim fiom e wilm chiedendo un incontro urgente all'amministratore delegato lucia morselli i sindacati lamentano di non essere stati coinvolti segnalano la modifica degli organici e dicono di aver appreso dalla nomina di un nuovo direttore di stabilimento salvatore del vecchio al posto di alessandro labile e di un ipotetico cambio alla guida delle risorse umane insomma visto questo quadro si è di nuovo a un bivio che determinerà il futuro del gruppo siderurgico l'editoriale con il direttore davide lorenzi il recente dibattito che si è tornato all animare sull'ex silva dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri del nuovo decreto ha avuto il pregio di riportare il futuro del siderurgico all'interno della cronaca nazionale una cronaca da qui era sparito fino a novembre dello scorso anno in un anno e mezzo di vuoto e che dove di fatto l'azienda ha avuto un po una deriva fino ad arrivare a delle problematiche serie che avevano portato addirittura la sospensione del dell'accesso agli impianti da parte dei fornitori per problemi di liquidità problemi di liquidità di liquidità che adesso sono stati affrontati proprio nel decreto che ha sbloccato almeno un 600 milioni di euro per l'azienda permettendole di di ripartire questo ritorno nel dibattito ha però il sapore un po del di un ultimo treno di un ultima occasione di rilancio infatti la vicenda si trascina da una decina di anni al punto che addirittura viene da chiedersi se ne valga la pena di procedere con questo rilancio ovviamente dal punto di vista sociale strategico la risposta è sì però se si analizza con un minimo di freddezza concentrandoci solo sui numeri l'idea che possa scomparire un impianto da 3 milioni di tonnellate in europa non è una cosa vista come un'eresia purtroppo potrebbe essere una una verità e senza neanche un impatto mostruoso sul sull'industria visto che ci sono ampi spazi per la sostituzione dei prodotti che verrebbero a mancare sicuramente c'è però da pensare che nel caso di una chiusura si andrebbero a fronteggiare una bomba ecologica e sociale senza precedenti nell'ultimo editoriale che ho fatto ho parlato di ho fatto l'esempio di bagnoli basta prendere che cosa è successo a bagnoli in campagna e moltiplicarlo proporzionalmente per quanto l'ilva è più grande di quel sito e si ha forse una mezza idea di che cosa si potrebbe andare in fronte quindi è quanto più importante che oggi grazie alla ripresa delle relazioni tra i sindacati e l'azienda delle relazioni col governo e si spera che anche con un rilancio da parte dell'imprenditore privato a cui sono state concesse sicuramente delle agevolazioni con il decreto si possa arrivare veramente al rilancio dell'impianto da Taranto a Terni a un anno dall'arrivo del gruppo Arvedi è prevista a breve la firma dell'accordo di programma per il rilancio di acciai speciali Terni con nuovi investimenti sentiamo tempi più brevi del previsto per la firma dell'accordo di programma per acciai speciali Terni dopo mesi di silenzio e le recenti richieste di chiarimento da parte dei sindacati Regione Umbria Comuni di Terni e direzione aziendale hanno chiarito le prospettive dell'acciaieria la concretizzazione dell'accordo di programma con i ministeri competenti avverrà con tutta probabilità si spiega in una nota congiunta entro il 28 febbraio quindi con circa un mese di anticipo rispetto alle ultime indicazioni ancora da capire l'entità delle due linee di finanziamento che saranno attivate nell'ambito dei fondi PNRR intanto l'azienda si è detta pronta non appena avverrà la firma dell'accordo a evadere gli ordini di impianti già in avanzata fase di trattativa con i diversi fornitori e a concretizzare il piano industriale e proprio per accelerare i tempi del rilancio il Cavaliere Arvedi ha confermato l'acquisto di un impianto di laminazione a freddo in Bahrain del valore di oltre 100 milioni che ormai in arrivo sarà in funzione entro l'anno una decisione presa per colmare un gap dell'azienda che a strutture personale si legge nel comunicato per produrre un milione e mezzo di tonnellate di acciaio liquido ma ad oggi produce solo 600 mila tonnellate di laminato a freddo e restiamo in tema di produzione di acciaio con uno sguardo agli ultimi dati della World Steel Association nel 2022 è tornato il segno meno. Nel 2022 sono stati prodotti nel mondo 1,87 miliardi di tonnellate di acciaio in calo del 4,2 per cento rispetto all'anno prima a dirlo è la World Steel Association dopo la salita del 21 dunque la siderurgia mondiale torna sui livelli del 19 e va in territorio negativo nonostante la Cina abbia frenato di un punto percentuale la propria discesa produttiva. Partiamo proprio dalla Cina che l'anno scorso ha sfornato 1,01 miliardi di tonnellate di acciaio contro gli 1,03 miliardi del 2021. La maggior discesa produttiva nella top 10 è quella della Turchia che scende dal settimo all'ottavo posto con 35,1 milioni di tonnellate. La crescita più sensibile è stata quella dell'Iran più 8 per cento con 30,6 milioni. In Unione Europea al primo posto resta la Germania 36,8 milioni di tonnellate meno 8,4 per cento. Poi l'Italia 21,6 milioni meno 11,6 per cento a seguire la Francia e la Spagna. A livello regionale come è prevedibile visto il conflitto in corso da quasi un anno è stata l'area di Russia, paesi della CSI e Ucraina a far segnare il rallentamento produttivo più pesante, meno 20,2 per cento con 85,2 milioni di tonnellate. L'Unione Europea dei 27 ha perso le 10,5 per cento con 136,7 milioni. Il Nord America ha rallentato del 5,5 per cento con 111,4 milioni di tonnellate. Anche di produzione, in particolare di lunghi, si parlerà nel prossimo webinar di Siderweb, mercato ed intorni, torna martedì 7 febbraio alle 11 su Zoom. Interverrà anche il presidente del gruppo Feralpi, Giuseppe Pasini. La sua intervista a cura di Francesca Morandi, content manager di Siderweb, sarà preceduta dalle analisi di Stefano Ferrari, Ufficio Studi Siderweb ed Emanuele Norsa. Calla Nish. La partecipazione è gratuita per iscriversi, basta cliccare sull'area eventi di Siderweb.com oppure scaricare l'app Siderweb Eventi, prodotti lunghi che sul mercato nazionale dell'acciaio nell'ultima settimana hanno fatto registrare una frenata. Lo dice l'ultima rilevazione dei prezzi curata dall'ufficio Siderweb. Non si arresta la corsa dei prodotti piani in acciaio al carbonio sul mercato italiano con un notevole spunto rialzista, lo dice l'ultima rilevazione effettuata da Siderweb a gennaio. La crescita di questi prodotti più che compensa le difficoltà dei lunghi, portando il Carbon Steel Index in territorio positivo più 1,13% rispetto ai sette giorni precedenti, stabile lo Scrap Index. In dettaglio, per quanto riguarda i piani, si registra un diffuso incremento delle quotazioni, da un minimo di più 12 euro la tonnellata rispetto alla scorsa settimana per le lamiere da treno italiane, a un massimo di più 35 euro la tonnellata per le lamiere zincate. Sul versante dei lunghi solo le billette internazionali rincarano, mentre gli altri prodotti scendono con la rete elettrosaldata che paga il dazio maggiore, meno 13 euro la tonnellata. Per l'acciaio inossidabile si segnala una lieve riduzione dello stainless steel index. Infine incalo le HBI e c'è stata una riduzione di tre dei quattro rottami inox rilevati, situazione sostanzialmente stabile per il rottame di acciaio al carbonio. Per tutti i dettagli basta consultare l'area prezzi di cedarweb.com. Per quest'oggi è davvero tutto, ci rivediamo venerdì prossimo. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!